L'estate 2022 sarà la stagione dei cantieri. Proseguono a Fano i lavori per la realizzazione e messa a nuovo di quegli spazi dedicati all'inclusione e al divertimento per grandi e piccoli. Dopo l'inaugurazione della nuova area giochi nel quartiere di Rosciano, l'amministrazione comunale sta intervenendo nella costruzione di un nuovo parco inclusivo a Sant'Orso dopo la progettazione e gli incontri partecipati con le scuole, le associazioni e i residenti. Fine dei lavori per il mese di luglio. Si sta concludendo quello che è il terzo parco inclusivo con la città che non è occasionale ma è proprio un filo conduttore comune di un intento che noi abbiamo di creare spazi sempre più accessibili a tutti e quindi con la volontà di creare nel gioco una vera e propria esperienza di vita e anche di crescita per gli stessi bambini. Parlavo appunto di un terzo parco perché questo prevederà l'installazione di cinque giochi inclusivi, quindi ci sono due altalene, una cestello per bambini che hanno delle disabilità ma anche normodotati e l'altra che prevederà due sedute invece proprio per fare interagire bambini normodotati e nonna. Avremo una arrampicata e una struttura completamente innovativa che abbiamo sulla città e per favorire un gioco anche a bambini dai 3 ai 16 anni, quindi alziamo un po' quello che è anche l'anno del gioco, una struttura di scivolo polivalente, una giostrina e dei giochi sensoriali. Questo tutto in una piattaforma antiurto proprio perché deve favorire l'accessibilità e la sicurezza. Interventi anche sulla pavimentazione ammalorata da tempo su via Petri e nuovi arredi su tutta l'area verde con l'installazione di panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. Mi permetto di rivolgere un appello a tutti i ragazzi ma anche e soprattutto le loro famiglie proprio perché in questi giorni si sta realizzando un parco e ahimè sono già state fatte degli atti vandalici quindi sono entrati e hanno danneggiato una parte del pavimento. Questo non deve accadere, primo perché se sono cantierati degli spazi significa preservare proprio le persone in uno stato di sicurezza, secondo perché sino a quando i giochi non sono aperti vuol dire che non sono collaudati. Una volta terminati i lavori il cantiere si sposterà nella piazza Madre Teresa di Calcutta nel centro commerciale del quartiere. Tra le novità il ripristino della fontana centrale che verrà attivata due volte a giornata dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19. Il ripristino del piccolo parco all'interno della piazzetta di Sant'Orso dove c'erano dei giochi ammalorati e alcuni rimossi e mai sostituiti quindi faremo un'installazione di nuovi giochi anche lì e una sistemazione di quelli che sono invece in buone condizioni. Intanto prosegue il calendario degli interventi nei parchi fanesi. La prossima area verde in programma sarà quella del quartiere di Fano 2.